Venerdì sera movimentato nella zona valle del centro di Agrigento, teatro di una rapina riuscita e una seconda tentata in poco meno di 15 minuti. Il colpo intorno alle 19.50 in via Manzoni, ad agire un malvivente che ha fatto irrizione all'interno della farmacia. Qui ha trovato i titolari, i dipendenti e alcuni clienti. Avviso coperto da una calzamaglie e pistola in mano, ha intimato ai presenti di inginocchiarsi a terra. Poi si è fatto consegnare l'incasso giornaliero. Ha raffato il bottino e è uscito fuori, dove ad aspettarlo c'era un complice a bordo di un ciclomotore. L'azione dei banditi è stata rapida e precisa. Poco più tardi, due questa volta avviso scoperto, sono penetrati nella tabaccheria di via Petrarca, proprio di fronte al palazzetto dello sporto e Pippo Nicosia. Alla vista dei malviventi, il proprietario dell'esercizio commerciale si è messo a gridare. Una reazione improvvisa che ha colto di sorprese i rapinatori. Spaventati sono risaliti in sella ad uno scooter e sono fuggiti, facendo perdere le tracce. Sia in via Manzoni che in via Petrarca, per lentaggini sono intervenuti i poliziotti della sezione volante e gli agenti della squadra mobile. Ascoltate diverse testimonianze per tentare di risalire ai due malviventi, i quali parlavano con marcata accendo siciliano. Due episodi quasi alle stessa ora, che portano nuovamente alla ribalta il fenomeno delle rapine. C'è una crescente paura che serpeggia in città tra i commercianti, che con l'avvicinarsi delle festività natalizie chiedono maggiori controlli.